Radio Radicale, siamo con il sottosegretario della giustizia Ostellari per parlare con lui della situazione del carcere Beccaria di Minorile di Milano. Oggi c'è stata un'interpellanza urgente su questo tema. Allora, si sono ripetuti ultimamente anche degli episodi abbastanza gravi di violenza nei confronti tra detenuti. Che cosa sta succedendo? Cosa sta facendo il Ministero e anche l'amministrazione penitenziaria? Allora, in merito ai fatti di violenza interni alle strutture carcerarie, ovviamente noi abbiamo immediatamente dato disposizione di controllare, di verificare, di fare le ispezioni che sono ovviamente di norma. Così come le autorità giudiziarie sono ovviamente sempre allertate e vengono interessate nel momento in cui avviene qualche illecito all'interno degli istituti, sia tra detenuti o tra detenuti e altro personale, ovviamente. Detto ciò, all'interno dei carceri minorili e in particolare del tema della giustizia minorile, io penso che sia necessario accendere un faro nazionale, perché noi ne abbiamo circa 400, poco meno di 400 detenuti in tutta Italia. E' fondamentale riconoscere che a questi ragazzi che hanno sbagliato non dobbiamo dare premi, ma dobbiamo però consentire loro un recupero vero, reale e attraverso che cosa? Ovviamente una formazione, una rieducazione con personale ovviamente adeguato, formato e qui mi riferisco non solo ovviamente alla polizia penitenziaria, ma agli educatori, agli psicologi, a coloro che dentro al carcere svolgono una funzione fondamentale proprio per il recupero di questi ragazzi. Che ovviamente devono anche imparare qualche cosa, perché lasciare lì qualcuno a guardare il soffitto non facciamo loro un bene, magari ci dimentichiamo di loro chiudendole all'interno del carcere, riteniamo forse di far eseguire la pena in questo modo, io dico no. Quindi investiamo su un percorso di rieducazione vero anche attraverso ad esempio il lavoro. In alcuni carceri questa esperienza sta funzionando, vedi ad esempio il carcere di Bologna, vedi ad esempio lo stesso carcere Beccaria che comunque ha una sua storicità anche in questo, grazie ad esempio a soggetti che lì lavorano e che prestano il loro servizio come i capellani, Don Burgio, che ad esempio è molto alle cronache, ed è il primo a ritenere, io sono d'accordo con lui, che non ci sono in realtà ragazzi cattivi, sono ragazzi che soffrono e che fanno soffrire. Ecco, dopo il tentativo di fuga dell'anno scorso, che misure erano state messe in atto e se mancano ancora degli psicologi per questo istituto? A seguito della fuga e dell'evasione dello scorso anno, sono intervenuto anche io subito il 26. Certo, mi ricordo, mi ricordo. Siamo andati lì, abbiamo visto, ho visto io con i miei occhi personalmente qual era la situazione, ovviamente la carenza personale, questo è un elemento che ereditiamo da passato e al quale ovviamente dobbiamo far fronte, però anche sulle strutture, allora per quanto riguarda la struttura i lavori sono ripartiti subito e a breve avremo la riconsegna di un istituto diciamo più idoneo. Per il resto faremo una cabina di regia che riguarderà non solo la giustizia minorile, ma anche la giustizia, diciamo, scusate, non solo quindi il tema dell'esecuzione penale minorile, ma anche l'esecuzione penale per gli adulti e questo tavolo di regia sarà utile per sviluppare proprio il tema soprattutto del lavoro. Lavoro coinvolgendo i privati, capace di reeducare il singolo soggetto, ma capace quindi di togliere dal circuito criminale quella persona che esce grazie a un percorso di reeducazione vero. Un'ultima domanda, adesso non so se è oggetto di una sua delega, però ieri c'è stata una conferenza stampa dei parlamentari del centro-sinistra sulla proposta di legge sulle detenute madri. Loro hanno detto che è venuto meno un accordo che forse c'era per questa proposta di legge, allora volevo chiederle se lei sa qualcosa, se è vero questo o se si sente di smentire la cosa che hanno fatto ieri i parlamentari in vista dell'8 marzo. Non conosco l'esistenza di accordi, quindi... Quindi non c'era l'accordo? No, no, non conosco, proprio non so se c'era l'accordo e che cosa quell'accordo dovesse prevedere. Ah vabbè, no, vabbè, l'ho chiesto una cosa, vabbè, l'ho fatto una domanda un po' a tradimento, quindi non... No, vabbè, ma non l'ho fatto in un senso malizioso, insomma, perché lei non può sapere tutto quanto. Va bene, senta, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il sottosegretario della giustizia Ostellari della Lega, grazie. Grazie.